Cresce e studia Cava de Tirreni e arriva a Roma a 18 anni ospite di un amico. Li conosce il capo carismatico di una famosa comune hippie di Terrasini di cui si innamora e con, cui si trasferisce per alcuni mesi. Dopo i quali torna a Roma ospite di Teresa Ansavoy, una sua amica attrice. Nel frattempo incontra Alessandro Haber, che la spinge a diventare attrice portando delle foto che le aveva fatto un agente. Nel giro di tre giorni le fanno fare tre provini due per il teatro e uno per la televisione e ottiene la parte in ciascuno. Sceglie la televisione e viene scritturata per lo sceneggiato Rai Una Donna, 1977, tratto dal romanzo di Sibilla Aleramo. Mentre l'anno successivo il suo non ancora compagno Elio Petri le affida una parte nello sceneggiato tv Le Mani Sporche da Jean-Paul Sartre. Insieme a Marcello Mastroianni, al cinema ha raggiunto il successo con tre film del 1983. Chopin di Luciano Odorisio, scusate il ritardo di Massimo Troisi e io. Chiara e l'oscuro di Maurizio Ponzi. Che le vale il Davide di Donatello e il nastro d'argento e del quale interpreta anche il seguito. Casablanca, Casablanca, 1985, di Francesco Nuti, anche protagonista di questi ultimi due titoli. Con Ponzi invece tornerà a lavorare in italiani. 1996, Besame Mucio, 1999, e Aluci Spente, 2004. Nel 1987 era stata scelta come protagonista del film opera di Dario Argento. Ma l'ultimo fu sostituita da Cristina Marsilac. Successivamente ha interpretato sia film drammatici. Come Cento giorni a Palermo. 1984, di Giuseppe Ferrara. Cattiva, 1991, di Carlo Lizzani. Con cui vince il suo secondo Davide di Donatello. Con rabbia e con amore. 1997, di Alfredo Angelico. Che pellicole divertenti tra cui i Picari. 1987, di Mario Monicelli. La vera vita di Antonio H. 1994, di Enzo Monteleone. W La scimmia. 2002, di Marco Colli. Negli anni 2000 è poi tornata a recitare con successo in tv. Gli amici di Gesù Maria Maddalena. 2000, Il bello delle donne dove è stata protesta. Protagonista per tutte le tre serie. 2001, 2002, 2003. Caterina e le sue figlie 2. 2007, Mogli a pezzi. 2008. Interprete di successo anche sul palcoscenico. Nelle ultime stagioni teatrali è stata protagonista di Notturno di Donna con ospiti. un testo di Annibale Ruccello per la regia di Enrico Maria Lamanna, dove l'attrice veste i panni di una donna in preda alla pazzia. Mentre dal 2007 è l'indiscussa protagonista del laureato. Testo teatrale tratto dal famoso film di Mike Nichols. Nel ruolo della signora Robinson. reso celebre sul grande schermo da Ann Bancroft, il 15 dicembre 2011 è ricoverata d'urgenza alla mezzia terme. Durante la tournée dello spettacolo la lampadina galleggiante. In seguito ha dolori al torace. E le viene diagnosticata erroneamente una pleurite con doppia polmonite. Dimessa alcuni giorni dopo è ritornata a Roma. La sera del 31 dicembre le sue condizioni peggiorano. Viene colpita da un'embolia polmonare e una trombosi venosa profonda alla gamba sinistra. Il 6 gennaio 2012 tramite Facebook annuncia di essere fuori pericolo. Dopo un periodo di riabilitazione l'attrice torna in salute. Dall'11 settembre 2012, torna nella fiction l'onore e il rispetto parte terza. Con Gabriele Garco, nel ruolo della mafiosa siciliana Tripolina. Il ritorno sulle scene è segnato da Rodolfo Valentino La Leggenda. In cui interpreta il ruolo dell'attrice hollywoodiana La Nazimova. Successivamente gira un'altra fiction per Mediaset dal titolo Furore Il Vento della Speranza. Dove interpreta una sindacalista siciliana negli anni Sessanta. Dopo il successo della sua opera teatrale notturno di donna con ospiti. Torna sul set della fiction di Mediaset Il Bello delle Donne. Ribattezzata Il Bello delle Donne. Alcuni anni dopo. Dove dovrà di nuovo interpretare la feroce Annalisa Bottelli. La messa in onda è prevista per l'autunno 2016. Sempre nel 2016 Giuliana De Sio farà parte del cast della nuova fiction per Mediaset dal titolo. Ausus Bandz, diretta dai registi Francesco Pavolini e Vincenzo Terracciano.